Possiamo definirla ultima spiaggia per il Bari, partita a spareggio? È una partita importante, adesso che sia ultima spiaggia o no, per noi rimane come tutte fondamentale per il proseguo del nostro campionato. Speriamo di portare a casa i punti che ci servono. Come pensate di trascinare il Bari verso la salvezza? Penso che le armi migliori devono essere la rabbia, la cattiveria, la determinazione su ogni pallone.